Non tornerà a vivere in Sicilia Antonello Montante, l'ex numero uno di Confindustria, condannato in primo grado a 14 anni per associazione a delinquere finalizzata la corruzione e resta fuori dall'isola. Il Tribunale ha rigettato la richiesta dei suoi avvocati Giuseppe Panepinto e Carlo Tormina di revocare l'obbligo di dimora. Don Montante vive ad Assi dove aveva sede una delle sue aziende che adesso è stata ceduta. All'obbligo di dimora era stato aggiunto anche l'obbligo di firma ma adesso non ce l'ha più. L'obbligo di dimora dal 14 febbraio del 2020 con precisione la Corte d'Appello l'aveva dato dopo essere stato scarcerato. L'arresto è avvenuto il 14 maggio del 2018. Al momento Montante a giudizio in secondo grado a Caltanissetta la sentenza si prevede per i primi di aprile.